Cercasi concretezza, maledetta fu quella partita col Fiorano dove nonostante una notevole quantità industriale di occasioni da gol, la rete è stata buccata solo al 93esimo. La prima azione da segnalare arriva al quinto minuto quando Sarafiumana tenta la deviazione vincente sulla pulizione di capitano Esther Protti. La risposta delle padroni di casa è sui piedi di Solomita ma la conclusione è da dimenticare. Al 14esimo ancora Sarafiumana sfiorà il vantaggio, Di Scanni blocca senza problemi, poi è turno di Protti un minuto più tardi ma la sua puntata da calcetto termina a lato. Morelli a questo punto ci prova dalla distanza senza inquadrare il bersaglio, la femminile però ha in merito di insistere senza riuscire a sborcare il risultato. Fiumani in contropiede trova i piedi di Di Scanni a dire di no, al 35esimo Spanno lancia Sarafiumana che si ritrova a tu per tu con i portieri di casa, brava a deviare sul palo la sua conclusione. Al 40esimo sul surto delle modenesi dalla bandierina Gatti mira l'angolino lontano sul quale però fa buona guardia Claudia Lissi. Fiumani e Di Scanni prima del rompete le righe si ripetono in un duello senza fine, mentre le modenesi dall'altra parte sfiorano la marcatura con Gatta. Infine è Chiara Protti a scoccare la concursione prima del brutto infortunio che la costringe a lasciare il posto a Simona Fiumana. Le biancorosse continuano a spingere sull'acceleratore, al 70esimo il tiro di Sarafiumana diventa un assist per pace che però non riesce a correggere in rete la sfera. Un giro di lancette e Gretcan verticalizza per Simona Fiumana, cambia la gemella ma non la sostanza. La femminile Rimini insiste con Tamburini la cui conclusione dal limite è troppo debole. Il Fiorano al 79esimo prova l'azione di velocità con Roda, calcia out. La porta sembra stregata a questo punto, soprattutto all'85esimo quando Sarafiumana sfrutta l'ispirazione di Morelli e con lo scavetto colleziona il secondo legno personale di giornate. Il recupero è di pura follia. In e out. Out quando, al 91esimo, il Fiorano colpisce il palo con Gat. Diviene invece in quando, al 93esimo, Cattamburini venta per Sarafiumana che perfeziona Scarpetta e Scavetto centrando l'undicesimo gol in campionato, tredicesimo compressivo in stagione, benedendo il pomeriggio di gioia meritata.